Entro 30 giorni verranno evacuate altre 60 famiglie aquilane per un totale di circa 150 persone. Questo accade negli alloggi antisismici del progetto case costruiti come è noto dopo il terremoto del 2009 nei quali dalle verifiche del comune dell'Aquila sono stati scoperti difetti di costruzione ma non ancora dei segni di cedimento. Nella giornata di ieri è stata diffusa una nota dal comune dell'Aquila a firma della dirigente del settore ricostruzione pubblica Enrica Di Paolis. I controlli sono scattati come è noto dopo l'evacuazione di una piastra realizzata dalla ditta fallita peraltro Cosbao nella New Town di Coppito II dove sono emersi difetti di costruzione in particolare assenza di guai nella base dei pilastri in legno che ha portato al marciume scoperto per caso. Episodi che sono successi dopo il crollo dei balconi accesi di Preturo nel 2014. L'ordinanza è firmata dal sindaco Massimo Cialente ma gli sgomberi non saranno per pericoli immediati quindi la De Paolis ha chiarito che non va creato il panico verranno svolte in tre scaioni entro 10 20 e 30 giorni anche perché al momento lei conferma che ci sono pochi alloggi disponibili dal momento che molti sono occupati dalle famiglie sfollate del terremoto del centro Italia. I tecnici comunali hanno effettuato delle indagini endoscopiche su tutte le 11 piastre realizzate con la stessa tipologia dalla impresa Cosbau. È emersa la presenza di acqua alla quota riposa della struttura portante della piastra numero 2 di Coppito 2, della piastra numero 14 di Paiare di Sassa e la presenza di forte umidità nella piastra numero 13 sempre a Paiare di Sassa. Successivamente sono stati effettuati anche dei saggi asportando per 50 cm di altezza lo stato di intonaco e di cappotto di isolamento dei muri perimetrali e del controvento esterno costituito da pallelli in legno OSB. È stata inoltre rimossa una parte di pavimentazione del relativo massetto in corrispondenza dei saggi. Da queste indagini emerge dunque una situazione analoga a quella riscontrata nella piastra 1 sgomberata il 31 maggio ovvero la mancanza del risvolto del naguaina impermealizzanti a protezione della base della struttura, ha spiegato il comune. L'acqua piovanna non trovando opposizione si è infiltrata nella zona di contatto tra pavimentazione e ripestimento interno della parte verticale per cui è meglio sgomberare. Risultano invece asciutte le aree investigate delle piastre numero 13 e 15 di Cese di Turo, la numero 5 e 6 e 7 di Sant'Antonio, la numero 12 di Pagliari di Sasse e la 23 di Paganica. Per queste piastre le indagini rilevano la presenza del risvolto della guaina alla quota riposa della struttura portante e dunque non ci dovrebbero essere problemi.